C'è una classifica che fotografa quello che è lo stato di forma del Foggia ed è quella riferita alle ultime sette giornate di campionato dove Peterman e compagni guardano tutti dall'alto. 17 punti conquistati frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. Una marcia davvero notevole quella dei rossoneri che hanno inaugurato al meglio anche l'era Somma sbancando il non facile campo di una Fidelissandria che proprio contro il Foggia si giocava le ultime cartucce per tornare a bordo del treno salvezza. Un punto in più della schiaccia sassi Catanzaro, ben sette più del Crotone. Addirittura otto punti recuperati alla terza forza del raggruppamento. Il Pescara clamorosamente finito nel mirino del Foggia e da qualche ora affidato alle cure di Zdenek Zeman. Una sfida nella sfida dunque con in corsa anche il Cerignola che nel segmento citato di punti ne ha messi insieme undici. Decisive saranno le ultime nove giornate che separano dal gong della stagione regolare per il Foggia, 5 impegni allo Zaccheria e 4 trasferte. Sabato, dinanzi al pubblico amico, la squadra di Mister Somma dovrà vedersela con una delle formazioni più in salute, la Viterbese. Dieci punti nelle ultime quattro giornate e due giorni fa raggiunta solo nel finale dal Picerno che ha tolto ai laziali lo sfizio delle quattro vittorie di fila. Un avversario dunque scomodo sulla strada del Foggia che ha già ricominciato a lavorare in vista della gara di sabato prossimo anticipata alle 14.30. Somma per l'occasione ritroverà Garattoni che ad Andria ha scontato il turno di squalifica e soprattutto potrà avere pienamente a disposizione i tanti acciaccati e indisposti che gli hanno impedito sabato al Degli Ulivi di avere alternative e costretto il tecnico in tribuna per squalifica a non poter contare sui cambi fatta eccezione per quello di Peralta che ha preso il posto di Schenetti solo a pochissimi secondi dal triplice fischio finale.